però cosa abbiamo fatto abbiamo fatto una parallela questa volta attivando un aux una parallela a fianco alla gran cassa perché perché nonostante adesso la sentiate si 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 senta bene nitida nel mix non usciva ancora quindi siamo andati a fare una parallela direttamente qui dalla parte della channel strip sulla gran cassa e ve la faccio sentire vedete come la parallela va a rafforzare ancora la gran cassa ma soprattutto va a schiarirla perché perché abbiamo lavorato sulla parallela proprio su quello che era per così dire un fattore che schiarisse facesse uscire un pochino di più la gran cassa nel mix andiamo a vedere come l'abbiamo lavorata anche qua anche qui un dr tra virgolette della della drm un dbx 160 per par condicio questa volta della waves e non della universal audio lavorano bene entrambi uno è un po più drastico rispetto all'altro in questo frangente ho preferito usare waves perché lo ritengo lo ritengo un pochino più aggressivo per quanto riguarda appunto il sound dopodiché abbiamo aperto un api l'api 550 equalizzatore straconosciuto strausato soprattutto perché perché ci serviva ottenere e ve lo faccio sentire esattamente questo suono da poter missare al suono di gran cassa principale vedete come fine e come va a ricalcare con la soglia di per così dire alta perché stiamo comunque lavorando su frequenze alte vedete qua siamo è importante una frequenza importante qui abbiamo parte del suono sui 60 70 ma siamo andati e tra virgolette ad attenuarlo quello che sentiamo comunque alla maggiore è appunto il quello che il suono diciamo dai 3000 ai 5000 che è andata a missare al suono di gran cassa vedete come è leggerissima la percezione però mattoncino dopo mattoncino andiamo a costruire rafforzare il nostro suono ma soprattutto lo consolidiamo all'interno del nostro mix un'altra cosa che vorrei farvi vedere da questa parte come potete notare da questa parte abbiamo i vc a vc a che vc a che sostanzialmente controllano vanno a controllare tutta quella che è una parte per per così dire della nostra tram e l'anima vedere ad esempio vc a dramma se io vado a tirare giù vedete che porta giù completamente tutto ok sostanzialmente come lo abbiamo fatto abbiamo fatto in modo che abbiamo usato i gruppi quindi abbiamo gruppato tutte quelle che sono le nostre parti di dramma una volta fatti naturalmente i livelli li abbiamo gruppate sul nostro vc a per cui a questo punto sul vc a che poi una channel strip normalissima come tante vado a farmi i livelli della mia della mia dramma naturalmente questo vc a devo gruppare deve andare ad agire su tutti quelli che sono i parametri per essere un vc a reale e quindi che funzioni come tale devo andare a gruppare tutto quello che fa tutto quello che ha a che fare con le dramma un'altra cosa che invece vorrei farvi vedere è questo il dr saturator dr saturator che cosa significa fondamentalmente per far crescere la nostra dramma perdere quell'effetto di saturazione abbiamo aperto su un canale quindi abbiamo aperto abbiamo fatto un aux o meglio questo potremmo anche chiamarlo punto di inserimento siamo andati ad aprire quello che il classico è un premio lo abbiamo spinto decisamente quindi siamo andati a spingere il nostro pre per avere un classico suono di saturazione da poter sommare alla nostra gran cassa ve lo faccio sentire ok questo lo abbiamo dato sia alla gran cassa che al rullante diciamo che gli altri li abbiamo trattati in un modo differente ma non passano attraverso questo punto chiamiamolo punto di inserimento o se vogliamo aux è veramente sottile la differenza tra punto di inserimento aux diciamo che i punti di inserimento potrebbero tra virgolette essere utilizzati anche per outboard esterni ok per cui siamo andati a dare appunto la saturazione dopodiché tutta la nostra parte di dramma arriva qui sul dramma io adesso per comodità tolgo tutti gli altri e vi faccio sentire solo le dramma quindi tutte le nostre dramma che arrivano sul nostro dramma basse ok a queste dramma cosa siamo andati a fare siamo andati a fare una parallela soltanto sul kick e solo sullo snare andiamo a vedere la parallela come funziona a questo punto la parallela con il kick in sand questa volta sentite come la gran cassa si è gonfiata nuovamente ha preso di nuovo quello hand vi faccio vedere cosa abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato un dbx 160 e abbiamo utilizzato un neve vi faccio sentire solo la parte di parallela della gran cassa questa la siamo andati a sommare a quella che era la nostra gran cassa che veniva dalla parte della channel strip ok proprio per continuare a lavorare su quel suono spero che il messaggio tra virgolette stia passando nel senso come potete notare il suono finale è fatto di tanti piccoli passaggi tanti piccoli passaggi e stiamo analizzando soltanto quella che è la gran cassa andiamo a vedere cos'altro c'è ad esempio abbiamo fatto una parallela anche sugli snare dopodiché gli overhead andiamo a vedere come sono stati trattati vedete come il tutto rende tende a far rendere il nostro suono di batteria più reale più vicino a quello che sentiremo se l'ascoltassimo dal vivo questa è tutta la parte degli alti ok la parte degli alti che adesso vi faccio sentire quali sono le differenze sentite come crescono come il charleston cresce e non siamo arrivati agli splash e ai crash però sentite come le frequenze alte crescono vi faccio risentire sentite il charleston come esce fuori ok dopodiché andiamo a quelle che sostanzialmente l'ambiente lo avevamo ma ci sono degli altri escamotage per poter far uscire l'ambiente adesso ne parliamo grazie a tutti